E a Pescara un altro appello arriva dalla zona di Borgo Marino per lo stato di degrado del Museo del Mare. Il collega Luca Pompei, con il quale ci colleghiamo subito in diretta questa mattina, ha sentito i residenti e mostrato le immagini in diretta Facebook. Buon pomeriggio Luca, qual è la situazione? Buon pomeriggio Gigliola, i social sono anche a disposizione per definizione di segnalazioni varie da parte dei cittadini, già in passato ci siamo occupati di situazioni di questo tipo e questa mattina siamo andati a trovare la signora Anna Palestini, storico personaggio del Borgo Marino di Pescara. La signora Anna Palestini, 87 anni, 13 figli, che Dio la benedica, è sempre molto combattiva. Ci ha chiamato perché lì la situazione nella palazzo proprio adiacente, il Museo del Mare, che ormai sono diversi anni che non riesce ad aprire, la situazione nei dintorni è a dir poco deporevole. Ecco la signora Anna Palestini che ci ha un po' raccontato la situazione, tra un po' vi faccio vedere le immagini, perché il Museo del Mare, tutto intorno, si è creato un laghetto dall'acqua piovana e da questo laghetto arrivano centinaia e centinaia di zanzare che aggrediscono le abitazioni vicine. In più ogni tanto viene fatto qualche intervento blando di decespugliamento nella zona, ma comunque l'incuria rimane, addirittura in quella cortile del Museo del Mare, abbandonato, vanno anche a sgambettare i cani e vengono lasciate deiezioni, per non parlare del mercato ittico proprio lì vicino, dove spesse volte vengono lasciate le cassette o pesce da buttare e immaginate voi l'odore nauseabondo che questi residenti devono subire. Noi abbiamo anche contattato l'amministrazione comunale, abbiamo parlato con il sindaco Masci che sullo Museo del Mare, sono ormai vent'anni che quella struttura è lì inutilizzata, ha annunciato un programma ben definito ed è convinto che entro la fine del suo mandato riuscirà a risolvere questa situazione. Per quanto riguarda invece l'igiene e l'incuria in quella zona, ha assicurato che nei prossimi giorni verranno fatti nuovi sopralluoghi per cercare di capire meglio la situazione e effettuare altre pulizie da questo punto di vista. Giulio, un momento come un altro, anche per ricordare che la nostra redazione social è a disposizione dei cittadini, qualora volessero così avanzare segnalazioni o lamentele varie, siamo pronti ad intervenire e a dar loro voce. Vi ricordo solo in chiusura il consueto appuntamento con il bollettino dei contagi Covid nel pomeriggio affidato al nostro Enrico Giancarli. È davvero tutto, Giulio, la te la linea.